Reati fallimentari e tributari da parte di imprenditori dell'agro nocerino sarnese attivi nella distribuzione di generi alimentari e prodotti per la casa con la compiacenza di due prestanome, un abbadante e un pluripregiudicato e quanto hanno accertato i finanzieri nel corso di un'attività di indagine condotta dalla sezione di polizia giudiziaria della Guardia di Finanza presso la Procura della Repubblica di Nocere Inferiore e dalla prima compagnia della Guardia di Finanza di Salerno coordinate dal sostituto procuratore il dottor Angelo Rubano. Nel corso delle indagini culminate con l'esecuzione dell'ordinanza cautelare emessa dal GIP il dottor Giovanni Pipola con l'applicazione di misure cautelari personali e reali è stato riscontrato nei confronti di cinque persone amministratori di fatto e di diritto di una società attuavano una serie di condotte delittuose che comportavano il dissesto economico e patrimoniale dell'azienda fino a determinarne il fallimento attraverso la sottrazione di scritture contabili fino alla cancellazione dal registro delle imprese al trasferimento della sede legale all'estero. In particolare gli amministratori di fatto della società scissa già in gravi difficoltà hanno fatto un'operazione di scissione parziale trasferendo tutto il patrimonio immobiliare ad una nuova società ad una nuova costruzione avente la medesima compagine sociale. Gli elementi raccolti dai finanzieri durante le indagini hanno comprovato anche il reato di sottrazione fraudolente al pagamento delle imposte. Il sostituto procuratore rubano che ha coordinato le indagini ha contestato anche l'evasione di qui la richiesta convalidata dal GIP di una serie di misure cautelari ed interdittive dal divieto di dimora in regione Campania a quello di esercitare attività di impresa per un anno oltre al sequestro finalizzato alla confisca di un fabbricato industriale ed un locale commerciale per un valore di quasi 5 milioni di euro.